Credo sia fondamentale prendere coscienza del fatto che la sostenibilità non è soltanto un'opportunità per chi ci governa o per chi guida le sorti economiche del mondo ma è una responsabilità che riguarda ognuno di noi quindi nella nostra realtà quotidiana sprecare meno acqua partecipare alla raccolta differenziata in maniera responsabile quando andiamo in giro utilizzare i mezzi pubblici la bici il monopattine elettrico o ancora quando vediamo quegli edifici abbandonati quante città sono piene di edifici abbandonati allora riqualificare cercare di valorizzare anziché cercare nuovo suolo su cui edificare e poi incrementare sicuramente le aree verdi delle città non solo per il divertimento dei bambini ma anche per per noi per avere più aria e più spazi in cui stare in tranquillità secondo me la cosa più importante proprio diciamo contribuire a cambiare mentalità proprio nella popolazione perché deve partire tutto da noi stessi diciamo da una consapevolezza del pericolo che stiamo correndo tutti e di la necessità di cambiare proprio il nostro approccio quotidiano con molte cose e quindi si insomma deve essere proprio un cambiamento diffuso ciao 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 ciao